sempre che il volontario umano non è come avere una mamma, quindi piuttosto che far continuare a figliare una gatta, la si sterilizza e si evita la morte di moltissimi cuccioli che poi muoiono davvero inutilmente. In ogni caso comunque cerchiamo sempre di ospitare il maggior numero di gatti possibile anche se ovviamente abbiamo degli standard sia dati dall'ASL, sia dati dal buon senso perché il sovrappopolamento poi del gattile non porta giovamento ai gatti, quindi cerchiamo appunto di ospitarli tutti in gattile ma principalmente i cuccioli cerchiamo di portarli a casa noi volontari e di seguirli, sveglie di notte per allattarli e quindi facciamo quello che possiamo, purtroppo però se si sterilizzasse, torniamo sempre a quel discorso, si eviterebbe, il nostro aiuto potrebbe andare a gatti invece che ne hanno davvero bisogno piuttosto che di cuccioli fatti nascere da persone incompetenti. In quanti siete di volontari? Volontarie tutte o c'è anche qualche? C'è anche qualche uomo, pochini, però sì siamo una ventina di volontari direi anche se quelli veramente attivi sono un po' meno, nel senso che noi in gattile andiamo tutti i giorni e facciamo dei turni per coprire i vari giorni, non ci sono feste, andiamo per Natale, la vigilia, capodanno, per Pasqua, sempre, perché i gatti devono mangiare sempre, quindi li puliamo, cerchiamo di coccolarli anche se sono tanti e il tempo è poco, però comunque devono mangiare tutti i giorni, quindi solitamente facciamo in tre persone il turno di un giorno ma capita che restino giorni scoperti purtroppo, quindi c'è qualcuno che riesce ad andare da mangiare ma non riesce bene a seguire i gatti. Sì, ma non ti capita mai di avere dei momenti di sconforto dove dici ma chi me l'ha fatto fare? Non potevano piacermi le scarpe ad esempio? Eh, ogni tanto sì, ogni tanto sì. A parte gli scherzi, sono tante le soddisfazioni perché quando si sta in mezzo agli animali sono tante davvero le soddisfazioni, però l'impegno e come posso dire le difficoltà sono veramente tante e in certi momenti nonostante ci si metta tanto impegno purtroppo le cose non vanno per il verso giusto, immagino che anche il numero di gatti che avete dovuto salutare sono... Esattamente. Non per colpa vostra perché purtroppo arrivano già in determinate condizioni e si fa quello che si può. Gatti incidentati, sì, alcuni, il veterinario riesce a salvarli e restano incontinenti, ne abbiamo qualcuno in gattile, abbiamo fatto un'area del gattile apposta per loro dove hanno delle cucce dentro riscaldate, le lettiere, un pezzettino di giardino fuori perché purtroppo gli incontinenti sono quelli che ancora meno riescono a trovare adozione, anche se cerchiamo adozione anche per loro, qualche volta qualche volontaria si innamora e se ne porta a casa qualcuno, però ovviamente sono quelli ancora più difficili a cui cercare casa. Ma la tua passione quando nasce Martina per gli animali? La mia passione da quando sono piccolissima, grazie ai miei genitori che mi hanno sempre fatto vedere in modo positivo il mondo degli animali, mi hanno avvicinata molto al mondo degli animali, poi io penso da quando ho ricordi sono vicina a gatti, cani, cavalli, tutti gli animali, poi crescendo è cresciuta la mia consapevolezza e sono riuscita ad iniziare ad aiutare prima i cavalli e poi i gatti, perché la mia passione è nata quando ero piccola per i cavalli, conoscendo l'associazione dei cavalli sono poi andata ad aiutare anche l'associazione dei gatti. Ecco l'associazione dei cavalli equinozio onlus, dicevamo che nonostante il tuo avvicinamento a questa realtà sia avvenuto con i cavalli, in realtà dicevamo che è nato proprio prima gatto randaggio onlus e poi sono arrivati alcuni cavalli, parliamo appunto anche di questa realtà perché può sembrare strano ma sono tantissimi i cavalli in cerca di adozione, in cerca di casa, la realtà come posso dire del mondo agonistico purtroppo ti spinge a superare sempre di più i livelli e quindi a mettere da parte quello che è il tuo cavallo che purtroppo il più delle volte spinto magari dall'istruttore, da non so quale motivo, il cavallo finisce magari nelle mani sbagliate per acquistarne un altro. Questa può essere una realtà, come poi ci sono i privati che tengono molto molto male i cavalli, quindi avvengono dei sequestri, ti accontami tu. Allora diciamo che l'associazione si occupa di tutto questo, abbiamo cavalli che abbiamo recuperato da situazioni di maltrattamento, quindi con le autorità siamo andati, anche se è molto difficile far riconoscere la situazione di maltrattamento, nel senso che ci è capitato diverse volte di andare in posti dove i cavalli era evidente che stessero male, erano magri, avevano poco e niente da mangiare, acqua sporchissima, box sporchissimo, lunghe lunghissime, le autorità non hanno riconosciuto questo come maltrattamento, quindi la cosa è veramente assurda, veramente difficile come mondo, perché purtroppo è legale tenerne tanti in pochissimo spazio e direi con poco cibo, nel senso che il cavallo in natura mangia praticamente 16 ore al giorno, se pensiamo che anche i cavalli sportivi vivono in un box, che assolutamente non è naturale, perché il cavallo dovrebbe camminare 30-40 km al giorno, se pensiamo che il cavallo vive in box non può soddisfare questo suo bisogno, oltre al fatto che gli viene dato da mangiare due volte al giorno se va bene, tre nei centri più grandi, però è comunque poco rispetto alle ore che dovrebbe passare a mangiare, quindi riconoscere una situazione di maltrattamento in questo mondo è molto difficile, oltre al fatto che sì, interveniamo su sequestri, cavalli che rischiano il macello, perché come dicevamo si viene spinti a cambiare cavallo come se fosse un indumento o un oggetto o perché non raggiunge determinati obiettivi che poi interessano di fatto solo all'umano, purtroppo da quel punto di vista lì possiamo fare poco, ci sono anche persone che ancora lo mangiano il cavallo, quindi rispetto ancora al mondo del cane e del gatto ci battiamo molto per sensibilizzare le persone anche nel mondo dei cavalli, anche se il cavallo viene mangiato, sfruttato per l'attività agonistica eccetera, nonostante alcuni li trattino bene davvero, altri li sfruttano e basta. Quindi queste un po' sono le varie casistiche, raccontami un po' di alcuni cavalli che sono arrivati da voi e come li hai trovati a livello oltre fisico che magari era molto più evidente ma anche a livello psicologico esatto, cosa ti ha colpito di questi animali? Allora principalmente tutti i cavalli che arrivano o hanno dei problemi che di solito sono agli arti appunto perché vengono molto sfruttati, quindi problemi al nodello, agli zoccoli piuttosto che infiltrazioni e quindi molto sfruttati, lei per esempio è Ailen e ci è arrivata che aveva solo un mese e l'abbiamo presa perché aveva un'infezione al ginocchio alla rotula di un posteriore già in stadio molto avanzato e come vedete nella foto lei era sempre coricata e passavamo per una strada e vedevamo questa puledrina così piccola sempre coricata, sempre sdraiata che è molto strano perché i cavalli giovani sono sempre a muoversi, non stanno fermi un secondo, vanno sempre ad esplorare, questa puledra invece era sempre sempre coricata e quindi siamo andati ad informarci e il proprietario ci ha detto che aveva appena preso accorti con il commerciante per venderla e darla via perché appunto aveva questa infezione alla rotula. Noi subito siamo intervenuti, abbiamo contattato il commerciante, abbiamo preso accordi e prima ancora che la puledra venisse da noi l'abbiamo mandata in clinica perché zoppicava, si trascinava al posteriore, faceva fatica a stare in piedi e quindi sono serviti veramente tanti soldi per farla operare, quindi raccolte fondi, persone che ci hanno aiutati e attualmente è perfettamente sana, vive in branco, gioca, corre tranquillamente, è molto molto vivace e come si vede nella foto molto in forma, tra l'altro una TPR, quindi è un cavallo da tiro molto molto grande e attualmente vive quasi senza la rotula perché è stata raschiata via tutta l'infezione, il tessuto che era in necrosi e ha praticamente dei frammenti di osso al posto della rotula, infatti è ancora in prognosi molto riservata, nel senso che… Quanto tempo ha adesso? Adesso ha tre anni e mezzo, ne fa quattro a marzo e attualmente è ancora in prognosi riservata perché al mondo non esistono altri casi di un cavallo senza una rotula. Casi invece di, come ti dicevo prima, di, come posso dire, di reali difficoltà a livello mentale, di movimenti non so stereotipati, vi sono capitati? Sì, sì, moltissimi, abbiamo per esempio una cavalla che si chiama Astra, anche lei è adottabile, anche a distanza e lei ha il ballo dell'orso ed è questa stereotipia che porta il cavallo a stare fermo sui quattro arti, ballando a destra e sinistra sui due arti anteriori, questo è provocato dal continuare a vivere in box per tutta la sua vita, la noia all'inizio parte come, la stereotipia parte come una richiesta del cavallo all'umano, quindi il cavallo che è in box quando passa l'umano chiede all'umano di uscire, cerca di fargli capire che ha bisogno di muoversi, l'umano continua comunque a passare davanti senza fare niente e quindi sì, poi diventa un'abitudine per il cavallo continuare a fare questo, adesso per esempio Astra vive da quando ce l'abbiamo in un paddock molto grande con altri cavalli, quindi avrebbe tante attività da fare, però ancora capita che quando c'è un momento di stress, come magari quando si va a dare il fieno oppure quando si dà una carota, la sua richiesta magari di avere un'altra carota inizia a fare il ballo dell'orso, quindi questa abitudine comunque lei è rimasta, speriamo nel tempo che facendo attività, distraendosi e vivendo con gli altri cavalli, piano piano passi, infatti si è ridotta moltissimo rispetto all'inizio, adesso capita una volta ogni tanto, però purtroppo sono ancora cose del suo passato che lei si porta sulle spalle. Cavalli sono animali da branco, purtroppo tanti di loro per appunto la vita agonistica a cui sono sottoposti perdono questa capacità di comunicare con i simili, tanto che diventa quasi pericoloso metterli insieme. Assolutamente. Come riuscite a reinserire, a reinsegnare a questi cavalli a comunicare appunto con gli altri cavalli, con i propri simili? Non è facile, nel senso che dipende dal cavallo che arriva, ovviamente la soggettività gioca un ruolo molto importante. Ci sono cavalli a cui basta vivere per un po' di tempo a fianco agli altri cavalli e che facciamo poi incontrare con cavalli molto competenti invece nella comunicazione con gli altri e li facciamo incontrare tenendoli alla longhina, lasciandoli liberi di esprimersi, ma ci mettiamo in condizione che se vediamo che la situazione si rende pericolosa possiamo intervenire per fermarli. Esatto. Però sì, diciamo che è un percorso non di due giorni ma che può essere di un mese piuttosto che di un anno. Ci sono cavalli che ci mettono anche molto di più ad imparare e che sarebbe pericoloso perché molte persone ci sono due cavalli, li mettono nel recinto insieme e basta, senza neanche preoccuparsi di capire se i due cavalli sanno comunicare perlomeno fra di loro, oltre al fatto che chissà se si stanno simpatici, tu comunque li obblighi a vivere in un recinto insieme. Vivendo invece in branco c'è molta più possibilità di trovare un amico oppure comunque se il pad è molto grande, se c'è qualcuno che mi sta antipatico me ne vado da un'altra parte. Però assolutamente invitiamo sempre le persone a non fare il fai da te perché è molto pericoloso, comunque i cavalli calciano, mordono e si possono fare molto molto male. Io per esempio che sono istruttrice di equitazione etica, seguo l'associazione anche e soprattutto in questi momenti, quindi quando c'è da inserire un cavallo in branco, quando c'è da fare un po' di riabilitazione, sia fisica che psicologica quel cavallo, perché molto spesso purtroppo ci arrivano delle macchine, non più un cavallo che pensa con la sua testa, ma delle macchine che fanno sempre e solo quello che l'umano dice. Ci arrivano cavalli che non dicono di sì, non dicono di no, non esprimono il suo pensiero, non fanno nulla, semplicemente stanno lì e quindi noi aiutiamo questi cavalli a riprendere in mano la loro vita, perché davvero essere una macchina è molto molto spiacevole. ma per te, chi è il cavallo? Se tu dovessi descrivere un cavallo... grazie a tutti!